Tutti morti tranne, deciso Cufcu, perché anch'io per un certo periodo sono stato un dinosaurio, diciamo per una cinquantina di milioni di anni, e non me ne pento. Allora, essendo il dinosaurio, si aveva la coscienza di essere nel giusto, si faceva rispettare. Poi, la situazione cambiò, è inutile che vi raccoglievi con l'arte, cominciarono guai di tutti i generi, sconfitte, errori, dubbi, tradimenti, pestilenze. Una nuova occupazione cresceva sulla terra, nemica a noi, ci davano addosso da tutte le parti, non ce ne andava bene ora. Adesso qualcuno dice che ha il gusto di tramontare la passione di essere distrutti, e ci sono parti del spirito di noi, l'esauri, già la prima. Non so, io questo sentimento non l'ho mai trovato. Se dagli altri l'avevano è perché si sentivano già perduti. Grazie. Grazie.